Della notte riparte, quindi con Mattia in regia e ci sentiamo domani. Poi appuntamenti, inizio a ricordarlo, va bene? Domenica ci sentiamo come tutte le mattine, tutte le domeniche mattine dalle 6 alle 9 con 105 weekend, ma c'è la novità, la novità che lunedì essendo festivo, dalle 6 alle 9, riparemo 105 weekend. Quindi ci possiamo sentire anche durante tutto il periodo delle feste. Amici sono le 23, vi saluto, vi abbraccio.